Ciao a tutti, sono Sara e sono la figlia di Morena e oggi l'andrò a intervistare chiedendole quindi della sua infanzia, di quella che è stata la sua storia passata, quindi dall'infanzia all'adolescenza, toccando vari temi, quindi sia a livello scolastico che anche quelli che erano gli usi e costumi dei suoi tempi e della sua famiglia, l'abbigliamento e il cibo. Quindi intanto se ti vuoi presentare così iniziamo. Ciao a tutti, io sono Morena, la mamma di Sara, sono nata il 2 maggio del 65 a Lucca e sono una semplice impiegata amministrativa. Ok, ora possiamo iniziare con le domande. Allora, una volta finita la scuola, finite le lezioni, dopo che cosa facevi? Finite le lezioni, ero contentissima, uscivo e non prendevo il primo pullman che passava chiaramente. Potevo anche fare una corsa e arrivare a prendere il pullman a Porta Elisa come facevi te, ma io no, chiaramente, perché volevo farmi tutto il filungo e l'andavo a prendere il più lontano possibile. Infatti arrivavo a casa vedo in mezzo perché insieme alle mie amiche ci facevamo tutto il filungo e ci avevamo da vedere ragazzini. Ecco, incontri, oggi ho visto questo, domani quell'altro, gli sguardi, il tempo dell'adolescenza. Per cui aspettavamo questo, eravamo contentissimi, ispaniante. Il pomeriggio si passava a studiare e ci si trovava alle superiori con le compagne di classe. Soprattutto studiavo con una mia compagna di classe, per cui il motorino a casa sua o a casa mia, si studiava anziani. Cosa? Cosa mangiavi? Merenda? Eh, merenda, la mia mamma mi faceva le crepes perché la mia mamma è abitato 13 anni in Francia. Al tempo della guerra si sono fatte tutti, la rivoluzione francese se l'è fatta tutta in Francia praticamente. Poi quando è finita lì è venuta in Italia, sono venuta in Italia e si, sono fatta la seconda guerra mondiale in Italia. E niente, lei era abituata che là c'erano queste crepes, anche a noi merenda c'erano sempre le crepes con la marmellata, oppure il pane con l'olio, il sale e l'aceto che mi piaceva, i primi affettati forse. Le crepesioni, quindi come venivate valutati per... Eh, c'era la pagella, la classica pagella, la pagella che c'erano, la pagella del primo e secondo semestre, le pagelle, quelle pagelline. Ma questa di cos'è, dell'elementare? Questa è della, vedo, quarta sezione B, per cui questa è dell'elementare, del 1974. Per quanto riguarda il tema dell'abbigliamento? Allora, l'abbigliamento diciamo che... Da quando sono nata, fino quasi alle medie, c'era la mia mamma che ci fusciva, per cui ci vestivamo con i vestiti che ci fusciva lei, i carti a mano, e, che ne so, poteva comprare una stoffa a quadretti gialla, e con questa stoffa ci faceva una gonna a me e una gonna alla mia sorella. A me magari me la faceva a ruote, alla mia sorella gliela faceva a piedi, però c'eravamo lo stesso, lo stesso tessuto, lo stesso colore, tutte e due. E poi in più mi mettevo i vestiti della mia sorella. E invece per quanto riguarda la spesa, quante volte a settimana la facevate? La spesa veniva fatta una volta per settimana, e fino a che siamo stati a Serminion Piano c'erano le botteghe locali, la bottega vicina a casa nostra, dove sta la sua compagna di classe, che i suoi nonni avevano una bottega qui a Serminion Piano. E poi a Lunasa, praticamente, fu aperto quasi subito, appena che siamo andati a abitare lì, il primo supermercato, che poi è diventato S. Lunga, che era un supermercato che chiaramente non è la S. Lunga di ora, però, insomma, era già un supermercatino dove si andava e si comprava... E invece, tipo, a scuola come ti vestivi? All'elementare c'erano i grembiule. Ah, all'elementare c'erano il grembiule bianco per le bimbe e con il fiocco, non mi ricordo, rosa, non mi ricordo... Non mi ricordo... Non mi ricordo... I mentari c'è qui il mio album dei ricordi. No, blu! Col fiocco blu? Sì. Questa è la maestra cattiva. Qua lei? La di noto, sì. Va bene, allora, grazie. Sì, è stata bravissima e grazie. Ciao.